Gravissimo incidente che è avvenuto nel pomeriggio di oggi ed si è verificato intorno alle 17 nell'incrocio tra via Campanella e via Galilei a poca distanza dal Codma di Rosciano di Fano. Coinvolte un'auto, una Rover 25 condotta da un fanese di 76 anni, Franco Pace e uno scooter MBK Booster sul quale viaggiava una donna di 54 anni, Patrizia Perugini. Ai soccorritori del 118 le condizioni di quest'ultima sono apparse subito gravi tanto che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ancona che è atterrata di fronte all'ingresso del centro ortofrutticolo. Ortofrutticolo ora è ricoverata in proniosi riservata all'ospedale di Torrette con un trauma cranico e la dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale di Fano anche se da una prima ricostruzione pare che si tratti di una mancata precedenza da parte dell'automobilista 76N.